Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, proverando da Bologna, per traffico intenso. Sulla Firenze Mare, coda a tratti, per traffico, verso Firenze, tra Pistoia e Bivio 11A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Qualche problema in Fipili, per traffico, coda a tratti, tra la Strassigna e Firenze Scandici, in direzione di Firenze. Per lavori, code di 3 km tra Cascina e Navacchio Visignano e di 2 km tra Santa Croce e Montopoli, tutto in direzione Mare. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo che è in corso da oggi il preesercizio della T1 della tramvia da Scandici a Careggi sull'intero tracciato. Tutti i passeggeri arrivati ad Alamanni Stazione dovranno scendere dal tram, che proseguirà fino a Careggi senza persone a bordo. Muoversi in Toscana Infion, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!